Il Rosario vi è dita la strada. 2 ottobre 1977. Figli miei, la pace, la grazia e l'amore di Dio siano costantemente nei vostri cuori. E che vi è di meglio di questi doni? Tutto ciò che è contrario ad essi porta disordine, inquietudine e male. Io desidero che voi possediate ogni bene, specie in ordine alla vostra vita morale e spirituale, e tutto io vi posso dare, purché vogliate collaborare con me ed essere docili alla mia azione. Disse un giorno Gesù che il regno di Dio è come una rete che il pescatore getta in mare, dove entrano i pesci. È pur vero che egli parlò di pesci buoni, che entreranno poi nel regno del Padre, e di pesci cattivi, che gli angeli getteranno ad ardere nella fornace ardente, ma io voglio che voi siate quei pesci buoni che si lasciano irretire dall'azione continua della grazia, per dover essere un giorno nel regno della gloria. Figli miei, sì, lasciatevi irretire, e fate in modo di non permettere che le reti, tese dal maligno alle anime, vi abbiano a contaminare o a far deviare. Io vi ho procurato uno scudo di difesa, quando ho donato ai cristiani il mio rosario, e vi vado aiutando continuamente, man mano che cresce in voi la mia devozione. Non ditemi che del rosario se ne può fare a meno. Come un sacerdote che non recita il suo ufficio o lo trascura, si mette sicuramente su una strada pericolosa, così i fedeli che disprezzano il rosario e lo tengono in nessun conto, si troveranno presto circondati da tali e tante tentazioni da non sapere come fare a vincerle. Anzi, vi dico che ben presto passeranno a trascurare anche gli altri doveri, fino a non tenere in nessun conto la grazia. Il rosario è la mia rete, è il mio scudo, di cui premonisco coloro che mi amano. È la fortezza dentro la quale si nascondono i deboli, coloro che temono di sé e coloro che vogliono salire fra le mie braccia fino al paradiso. Vi voglio perfetti, figli, e il mio rosario vi addita la strada, dalla nascita alla morte. Il rosario è la falsariga su cui dovete camminare. Il ricercare di Dio, nell'umiltà e povertà della grotta, per crescere nella grazia in adesione alla sua volontà, fino all'accettazione del dolore di qualunque grado e forma. Il salire il calvario della vita, tenendo costantemente fissa la meta, la glorificazione definitiva nella casa del padre, con la retribuzione particolareggiata di ogni anche piccolo atto di virtù, è tutta una conquista che vi viene segnata passo passo con quella preghiera singolarissima, che sembra monotona, e che è fatta come una scala da salire gradatamente. Figli, il rosario è un canto d'amore che il cielo volge alla terra e che dai vostri cuori sale al cielo. Che fa un bambino quando si aggrappa al seno della mamma? Cerca il suo alimento e, mentre lo riceve, dà gioia alla mamma, che si vede cercata e che con tanto amore glielo dona. Fate anche voi così? Quando recitate il rosario, aggrappatevi a me. Io vi farò comprendere le cose di Dio. Vi darò il cibo spirituale, e sarà una gioia sentirmi ricambiata dal desiderio di me e dal vostro affetto. Figli, la vostra vita è un immenso dono che va valorizzato, e, come i fiori che non hanno profumo, pur nella loro bellezza mancano di una caratteristica che li distingue e che li rende graditi. Così i miei figli che desiderano servire il Signore e che sono come fiori davanti all'altare, mi saranno molto più graditi, se vorranno coprirsi del delicato profumo di quelle mistiche rose che compongono il Santo Rosario. Tutto quanto vi ho detto deve invitarvi ad esercitare quell'Apostolato che deve raggiungere ogni campo, ogni luogo, ogni casa, ogni anima. Chi lavora nella scuola, mi porti i propri alunni, perché io li benedica attraverso il Rosario. Chi lavora negli ospedali, si renda meritevole della salvezza di tanti anime, che io richiamerò per mezzo del Rosario. Oh, quelle corsie quanto sono tristi, quando non vi è una semina giornaliera di rose che aiuti gli ammalati. Io cammino negli ospedali come celeste infermiera, ma non mi si vuole, anzi, molte volte mi bestemmiano malati e sani, persino i medici e gli infermieri. Io desidero entrare nel cuore dei poveri, degli operai, dei miseri e dei peccatori, poiché anche noi fummo poveri, operai, e i peccatori formarono e formano l'assillo del nostro cuore. Figli, preparate la messa con la recita del Rosario, manderò i miei angeli, perché abbiate a ricavare da essa il maggior frutto. Non mettete mai limite alle vostre richieste mediante il Rosario, e sappiate che, se certe grazie tardano ad arrivare, è soltanto perché devono essere preparate con molta preghiera. Figli, vi benedico tutti ad uno ad uno. Benedico le famiglie presenti al completo. Portate la mia benedizione nelle vostre case.